Sei troppo moderno, Nello. Tu nel sindacato sei diventato un problema. Ma non ti preoccupare, noi non ti lasciamo da solo. Una cooperativa ci ha chiesto un dirigente. E noi abbiamo pensato a te. Scusi, è qui la cooperativa 180? Riccardo Surini, via Vitruvio, 9, a, 20, 100. Riccardo Surini. Carnovali, Andrea, via Luigi Galvani, 13, a, 20, 100. Giada Caselli, via Vitruvio, Gioia, 20, a, 20, 100. Vino Conti, via Borghetti, 10, a, 20, 100. Matteo Casanini, via Ceniso, 53, a, 20, 100. Proprio la luce, dai, così. Molto meglio. Poi, Giulia Retta, via Tonale, 8, CAP, 20, 100. Salve, Del Vecchio, presidente della cooperativa. Treppi, così ritardo. Ragazzi, è arrivato il nuovo direttore. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. Luca è molto bravo, eh? Solo ogni tanto la giornata no, e allora non riesce a incollare il francobolo al posto giusto. Vero, Luca? Allora, cambiamo. Voi due imbustate. E, ossi e roppi incollano. Bene. Cambiamento, per favore. Che ossi roppi incollano e... Ci chiamiamo cooperativa 180 in onore della legge Basaglia. Che, come saprà, chiude i manicomi, libera i matti. Così, se le famiglie se li riprendono, impazziscono anche loro. E se non se li riprendono, ecco, questi che fanno? Dica a lei. Non lo so. Appunto. Nessuno lo sa. Io ho fondato la cooperativa per occuparne qualcuno, ma... Non ho tempo di starle dietro. In manicomio ne ho altri 150 che nessuno vuole. Ma la cooperativa cosa produce? Cosa vuole che produca? E lemosine. Il comune ci fa incollare i francoboli, la coppa ci fa mettere i prezzi sulle olive. Una settimana con l'unciolo, una senza, se no si confondono. Io cosa devo fare? Ma niente. Cercare nuovi appalti, organizzare il lavoro. Non è difficile, eh? Loro... Danno retta. Ma perché vanno così piano? Eh, sono sedati, eh. Purtroppo la pazzia non guarisce per legge. È cattivo. Non mi manchi le lasagne, eh? Nella roba fatta in casa c'è il veleno. A me piace il veleno. Beh, visto che lavoriamo insieme dobbiamo conoscerci, non mi pare? Bello, l'hai fatto tu? Tu, per esempio, come ti chiami? Non vuoi dirmi il tuo nome? Che, 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 che il nome è Robby? Però quello lì non parla, eh, che, che è autistico. Però se vuole mi presento io, posso? Sono Fabio, ex legente trasversale, ben integrato, intervista e credente. Che, 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 mio padre è pilota. È stato a distanza da Hamburgo, Barcellona e Parigi. E le mie competenze sono tutte a sua disposizione. Siamo colleghi, possiamo darci del tu. Colleghi? Come vuole lei, signor direttore? Nello. Puoi chiamarmi Nello. La ringrazio, signor Nello. Sono io che ringrazio lei, signor Fabio. Io mi chiamo Luisa. Anche io voglio essere chiamata signora. Certo, signora Luisa. Io, io allora sono il signor Goffredo. Beh, lei si vuole presentare? Tocca a me. Mi chiamo Ossi. Non ho preferenze. Non so niente. Non ho bisogno di niente. Non toccava a me, toccava a Gigio. Non toccava a me, toccava a Gigio. Non toccava a me, toccava a Gigio. Adesso si presenta anche lui. Prego. Lui è Luca. È bravissimo. Gli dovrebbero dare tre stipendi. Sì, ma lei chi è? Io mi chiamo Gigio come Topo Gigio. Sono un po' agitato perché non mi danno le medicine giuste. Sono in America, le medicine giuste. In America. E il signor Luca cosa ci dice? Mi chiamano Niki Lauda perché lavoravo l'autodromo. Ho lavorato sette anni all'autodromo. Perché l'autodromo è pericolosissimo. Chiunque tu sei, te va l'autodromo, le macchine ti fanno gli sfiori così. Sette anni così. Mi sono divertito. Io sono Miriam. Sono paroliera. Mi piace qualunque cosa che è proibita. Ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Ma perché mi guarda così? Guardi che sono fidanzata con uno spagnolo, Julio, molto geloso. Anche io una volta ho avuto una storia d'amore. Lui stava dentro e io stavo dentro. Poi dopo io sono uscita e poi dopo lui è uscito. E poi dopo ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, ci siamo amati. Abbiamo fatto una bambina. Che bella storia. E come si chiama questa bambina? Non lo so. Perché me l'hanno portata via, me l'hanno. Non l'ho mai vista la mia bambina. Anche perché poi lui è scappato con un'altra donna. E mio padre mi ha dato un sacco di botte, mi ha dato. Perché io sono una zozza. Io sono una zozza. Boh. Ci siamo conosciuti. Al lavoro. Buongiorno, signor Gigio. Ma voi sbagliate apposta Sapete cosa vi dico? Pravi Non è facile fare disegni così Questa è una roba d'artisti Ma noi Non siamo una cooperativa d'arte Siamo una cooperativa di lavoro Secondo voi perché il comune ci fa attaccare Franco Bolli? Perché siamo malati di mente Sì ma il cliente va soddisfatto Bisogna fare quello che chiede Bisogna eseguire il lavoro a regola d'arte Ma perché? Tanto ci pagano uguale Ma perché ci guardi così? Siamo matti, mica scemi Ma scusate ma voi Non piacerebbe fare un lavoro vero? Normale come tutti? Mi agito Io sono come mio padre Mio padre a lavorare si agitava tanto che è morto Io non so fare un lavoro normale Non so fare un lavoro normale Fa simbara Le qualità le avete? Fare disegni così non è mica facile Ma quanto pagano un lavoro normale? Abbastanza Bene Prima di mettere i voti ricapitoliamo Chi si ricorda le tue scelte? Signor Fabio Allora lettera A Lavori assistenziali Che non si fa fatica Ma non serve a niente Perfetto Poi lettera B Che è proprio entrare nel mercato E ci si fa un gran culo E poi si può essere utile agli altri E forse si fa il grano Ottimo signor Fabio Complimenti Non è quello che volevo dire io Bene Mettiamo i voti Chi vota A Assistenza A me il mercato pare una cosa molto volgare Bene Tre voti Chi vota B Mercato Assemblea ha deciso No assistenza Abbiamo vinto Ma non è finita Adesso dobbiamo decidere quale lavoro fare Qualcuna delle idee Signor Rossi Non ho idee Nessuna idea Vuoto totale Grazie signor Rossi Ammettere di non avere idee È un utile contributo alla discussione Noi scriviamo nessuna idea Nessuna idea Grazie signor Rossi Altre proposte? Io Io Le idee Allora Per le idee A me Come Come buon professionista Che mi va bene tutto Però io proprio Vorrei fare il direttore Se è possibile Direttore? E tanto che è possibile Altre proposte? Prego Signor Goffredo Facciamo una cooperativa di sceriffi Cazzata Sì? Si può fare Cooperativa sceriffi Perché no? Che c'è? Compriamo un camion Io guido E loro cambiano le gomme Si può fare Camion Io voglio Altre Signor Robi Grazie per il suo intervento Scriviamo Proposta Robi Altre idee? Signora Luisa Mia donna Aveva una segheria C'era un buon odore di legno Lavorare in legno Si può fare? Io da ragazzino montavo i parquet Il mio capo ad esempio Dice che non ci sono più ragazzi Disposti a sudare nella polvere Ma voi sareste disposti a sudare nella polvere? Io sì Io sì Io sì Io no Non rientro fra i miei interessi Ma signor Carlo Nella vita un lavoro si deve fare Io già ce l'ho Faccio miracoli Sono pagato dagli UFO Sotto forma di pensione di invalidità Me la mandano il 27 Beato lei Allora chi sceglie Di lavorare col parquet Alzi la mano No Non si fa così Non si fa così Da che mondo è mondo Non si decide con i voti Questa roba qua Si chiede al dottor del vecchio No signor Fabio In una cooperativa non decide il dottore Decidono i soci Ma chi sono questi soci? I padroni della cooperativa Cioè voi Grazie signor Enrico Parquet Ciao soci Come stai soci? Bene bene soci Soci Oh mi raccomando Questo è il nostro primo appalto Ma io ho fiducia in voi E so che ce la metterete tutta Per essere all'altezza di questa sfida Che il mercato ci pone Eh Miriam? Ma come? È il loro primo lavoro Guarda che se fanno danni paga Nello Non ti fidi più di tua sorella? Di te mi fido Sara E di Nello che non mi fido per un cazzo Dai hanno bisogno di una mano Se no che cosa vuol dire essere di sinistra? Scusa A guidarci in quest'impresa c'è quello che forse è il maestro mondiale del parquet Il signor Cicconi Un applauso ci sta eh Spero che non ti offendi? No proprio no Ecco Ma come guida quello? In seconda Dice che l'autodromo ha già visto troppi incidenti Andiamoci Cicconi Signor Nello Passo di qua o di là della macchina Signora si faccia come crede Nello Sono almeno 14 anni Che mi prende per il culo Io? Eh tu Tranquillo sono più in gamba di come sempre Allora regola numero uno Stare sul tezzo Ok Tira fuori il trapano Ma che cazzo stegilo! No Signor Goffredo dobbiamo pulirci Ma che fa? Oh si A sinistra A sinistra Regola numero due L'attrezzo di lavoro È come la mamma Chi lo perde Resta orfano La posa Vuole gesti delicati Come quando si prende per mano la fidanzata Scusi Lei non Non lavora? Io no Ti faccio miracoli Bravo Bene Ne prendete Su col morale Sapete perché abbiamo sbagliato? Perché abbiamo fatto Solo chi non fa non sbaglia Ora l'importante è imparare dagli errori Che io non devo imparare niente Che quel sbaglio lì L'ha fatto loro due No signor Fabio In una cooperativa Le colpe si dividono Perché? Perché vanno più guadagni E in questo caso Sono uguali per tutti Fanno 200.000 lire a testa Ma sono tutti nostri? No signor Luca Uno è mio Con permesso Signor Rossi Buongiorno Come va? Male Siamo fuori mercato Allora Mi spiego No Spiego a te Vedi A fare il parquet Noi ci mettiamo tre volte più degli operai Non No Aggiungi le spese Paghi le tasse E siamo fuori dal mercato E chiacchia che non ce l'avamo qui Bravo signor Fabio Sono contento che lei faccia i conti Però adesso li rifacciamo insieme E vedrà che non sono così giusti Sono È stato mica lui a fare i conti È stato il dottor del vecchio Dice che non possiamo fare un lavoro vero Del vecchio Ma perché mi discoraggia? Io mi faccio un mazzo così per motivarli Guardi che lei non li motiva Lei li illude Questi sono malati di mente Non sanno neanche incollare i francobolli Però sanno prendere giro i dottori Guardi Vedete questi qui Questi non sono sbagli Questi sono disegni Bravi eh Cosa credete di dimostrare? Gli stizofreni hanno bisogno di simmetria Per placare il loro disordine mentale E allora? Sia quel che sia Delle capacità ce le hanno Perché non approfittarne Cavarne fuori qualcosa? Perché come medico Lo so Loro sono assolutamente incapaci Di sostenere le tensioni Le responsabilità di un lavoro vero Ecco io non sono medico Io non sono qui a dirigere un ospedale Sono qui a dirigere una cooperativa di lavoro E finché sto qui dentro io Li tratto come dei lavoratori Ok Lei è frustrata Perché il sindacato è che c'è E ora vuole rifarsi Illudendo dei poveri malati di mente Che sono dei lavoratori Questa cosa non funzionerà mai Mi creda Non può Non può Ma sì? E allora perché ho un appalto nel centro di Milano? Abbiamo un appalto In centro A Milano Proprio le mie congratulazioni Anche da parte di mio padre Allora A fare via la frugola Ma che ora si comincia Ma non è Dio Mi devo organizzare Vieni 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 Non è Dio Non è Dio Mi devo organizzare Io non mi vergogno di niente, tu ti vergogni di qualcosa? Cosa vuoi? Un appalto, Padella, ci conosciamo da vent'anni, litighiamo da vent'anni. Vengo adesso a strisciare con il cappello in mano. Cosa devo fare di più? Leccarti le scarpe? Dammi sto negozio e falla finita, dai! Sara! Cosa ne pensi di questa storia qui? Ma sono bravi. A Casanossa hanno fatto un bellissimo lavoro, no? Però gli do il mio art director. Signor Padellari, scusi, può venire? Arriva. E fanno tutto quello che dice lui. Traduci a Trotsky qui. Mirko, Marco, come cazzo ti chiami? Scegli un nome. Cosa ti ho detto? Basta che siamo in una sua vita. Allora, soci, la mia proposta è questa. Punto 1. La cooperativa esce dalla tutela del centro psichiatrico e trasloca in una nuova sede. Io direi questa, costa anche poco. Che bel posto! Punto 2. La cooperativa 180 sceglie l'approccio del dottor Furlan che sostiene che si possono abbassare i farmaci anche del 50%. No, almeno del 50%. E quindi il socio è visto prima di tutto come lavoratore e solo in caso di necessità come persona con problemi mentali. Punto 3. I soci rinunciano a ogni lavoro assistenziale e si impegnano ad affrontare il mercato con il proprio lavoro, il proprio sacrificio, le proprie competenze. Che mercato è questo? Non è un dibattito. Dopo, dopo. Ci si scrive, sì. Punto 4. Il consiglio ringrazia il professor Del Vecchio per il lavoro svolto ed elegge un nuovo presidente scegliendolo tra i soci. Ora il dibattito è aperto. Si è scritto al signor Fabio. Prego. Che se Del Vecchio si arrabbia. Fa come succede a lei, signor Fabio. Dopo un po' gli passa. A lui non gli passa. Io voto no. Anche io. Va beh, due no. Bravo, c'è la seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. L'assemblea ha deciso una maggioranza. E a pensarci, che pazzi è, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Se si arrabbia, mi dite che ho firmato per ultimo. Nella realtà, va bene. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove noi ci siamo santi. L'eroe. Il signor Fabio ha firmato per primo. Se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Lo sai che sta buffonata? Non è una buffonata, è un verbale di assemblea. Cioè, lei vuole mandare via me e fare presidente robili autistiche. Sta schiazzando. L'ho deciso loro. È lei che li ha plagiati. Loro non sono in grado di decidere. Allora non doveva fare una cooperativa. In una cooperativa decidono i soci. Lo dice la legge, lo dice lo statuto. Grazie per quello che ha fatto, professore. Lei è un irresponsabile a calare i farmaci. Lo sa che cosa fa, Luca, quando sente lo squaro dentro la pancia? Lo sa che Gigio è stato quattro anni in casa, chiuso, senza trovare il coraggio di uscire? Lo sa cosa ha fatto Niki Lauda con la bugia? Basta così, dottore. Basta. Grazie. Non finisce qui, purtroppo. Buongiorno, Presidente. Il gruppo della cooperativa 180 è sicuramente positivo. E l'attività della cooperativa stessa ha giovato a tutti i soci. E non può essere connessa al suicidio del signor Sergio Bordoletto. Ma perché ha scritto questo? Perché lo penso. Tornando ho trovato dei miglioramenti che non credevo possibili. Quello che fate funziona. E quindi dovete continuare a farlo. Lei ha sbagliato con Gigio. Ma tutti sbagliamo. Se io le avessi dato retta dall'inizio, avremmo collaborato, forse non sarebbe successo. E quindi è anche colpa mia. È colpa del dottor Furlano. Di Luca che ha fatto la rissa, della ragazza che l'ha baciato. Che facciamo? Ci mettiamo tutti a letto. Quindi la pianti, i sensi di colpa non servono a niente. Impari la lezione e si rimbocchi le maniche. Qua c'è bisogno di lei. Il casale è ancora sfitto, eh? Mi sono informato. Non posso, dottore. Questa cosa è stata troppo grossa per me. Diventerei come Ossi. Avrei mille dubbi, mi bloccherei ad ogni scelta. Chi lavora col disagio lo sa. La mette in conto che qualcuno non ce la fa. È scritto. Mi spiace. Adesso ho bisogno di fare un lavoro dove se faccio dei danni è meglio. Grazie. Ciao, soci. Come va? Torni. No, Luisa, non posso. Ho un altro lavoro. Se mi lasci non vale. Allora... Allora sei guarito? Ma io non sono mica malato. Sto bene. Ho un bel lavoro. C'è... delle piante... belle. Sono contento. E io vado. In gamba, eh? Mi raccomando. Aspetta! Seconda stella a destra Questo è il cammino E poi dritto Fino al mattino Questi fanno ridere Poi la strada La trovi da te Porta all'isola Che non c'è Forse questo Ti sembrerà strano Ma la ragione Ti ha un po' preso la mano Ed ora sei Quasi convinto Che Non può esistere Un'isola Che non c'è Strozco Quando uno dorme Bisogna svegliarti Bisogna svegliarti Forza ragazzi Dai abbiamo il ristorante Prenutato alle 13.00 in punto Cazzo vuoi Grattaculo Che sabato E lavoriamo solo le due C'è un programma Questa settimana Dobbiamo consegnare 20 tavolini scarti d'autore 3 sedie d'Europa E 216 pannelli scarti d'Oriente Tu quindi vedi 216 pannelli scarti d'Oriente? No Sono 215 Dai Dai Fica a Parigi Aspetta Sono indeciso Sui prigli Il tris Prendi il tris Il tris è buonissimo Per il ristorante Bisogna lasciare la mancia Dobbiamo lasciare la mancia Sì Io non lascio niente Non lascio Ma no eh Se non lasci la mancia Non sei nessuno eh Signor Rossi Mi servono per giovedì Sei sacchi di acero beige chiaro Quello che Signora Luisa Il 18 c'è un cambio attorno Perché poi Basta È festa Dai che facciamo tardi al ristorante Su Sì però lei martedì alle 20 Ha quell'incontro con i francesi D'accordo Allora io vado a lavarmi Ma che francesi? Io ho la cena con Sara Cancelli i francesi Ma no Non può fare il bidone francesi E se fai un bidone francese Quelli ti portano canile in Francia Non si può fare Seguo la bianne Non Si Può Fa Eh Ragazzi Bene Venite a vedere Ciao Forza Prego soci Ma no Voi non dovete arrivare oggi Che questi qui arrivano Il 13 alle 11 No No signor Fabio Arrivano l'11 alle 13 A questo punto Mi sa che ci vuole un discorso Mi sa che il presidente Vuole dirvi due parole Penny Prima Ma Ma Mi 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 Oh no, amore, e di niente va giusto per fare l'amore. Gran bel discorso, presidente. Oh no, amore, e di niente va giusto per fare l'amore. Oh no, amore, e di niente va giusto per fare l'amore. Oh no, amore, e di niente va giusto per fare l'amore. Oh no, amore, e di niente va giusto per fare l'amore. Oh no, amore. Oh no, amore. Oh no, amore.